Ciao amici maghetti e bentornati qui nel meraviglioso castello di Cartoon Magic, l'unico luogo al mondo dove ogni fantasia si trasforma in realtà. Anche oggi le porte del nostro castello incantato ci stanno per aprire per tantissime nuove sorprese. Ottimo, allora sono emozionatissima ragazzi e voi? Sì! E allora ragazzi facciamolo salire subito sul nostro palcoscenico, lui è un mago da Guinness dei primati. Sì ma prima vi voglio dare un consiglio ragazzi, per chi ha un po' paura di quegli animaletti che strisciano beh forse è meglio chiudere gli occhi e non diciamo altro, non diciamo altro ma chiamiamo la magia. Tutti insieme! Il mago dalle gare Gabriele Gentile Wow bambini, attenzione al mago dalle gare perché oggi parleremo di musica e colori e lo faremo con, vediamo vediamo vediamo, questo bimbo qua, puoi venire eccolo qua, accogliamolo con un applauso e questa bimba, dai vieni salta su, venite qui bambini che belli che siete, siete pronti per la magia? Tu sciolto con la testa, sciolto, sciolto così, sciolto sempre sciolto, bene e tu pettinata che sei anche un po' la valletta, perfetto bene, pettinata così, Shakira pettinata, bene alta moda, mettiti qua così, mettiti qua così, avrete pensate un flauto a testa, questo è il tuo e questo è il tuo, con questo flauto farete qualcosa di straordinario, parleremo di musica e suonerete per la gioia di tutti i bimbi che sono qui e che vi potranno anche seguire da casa. Tieni il flauto, benissimo, sempre con il flauto selezioneremo, pensate, un colore dell'arcobaleno, bambini sono tanti, bellissimi, li conoscete tutti, i colori dell'arcobaleno, va bene? Io provo a mescolarli un pochino così, wow, e tu dovrai semplicemente una volta che io farò scorrere in questo modo questi colori dell'arcobaleno suonare una nota forte, ok, fortissima in maniera da scegliere uno, sei pronto? Vai, quando vuoi, perfetto, questo è il vostro colore dell'arcobaleno, guardatelo bene, io lo voglio prendere e lo voglio consegnare un attimo a lui, ce l'hai? Perfetto, rimettetevi qui da questa parte, bambini, chi ritroverà questo cartoncino colorato all'interno di tutto il mazzetto? Non lo troverò io, non lo troverà lui, non lo troverà lei, ma lo ritroverà il mio serpente, pensate, fate, oh, il serpente che è qui dentro, nascosto, lo tiro fuori, si chiama Patrick, è un serpente a sonagli, pensa, a sonagli, bene, una battuta straordinaria, devo dire bene, togli questo che costa 1.800, ma all'interno il serpente Patrick quando esce, aia, è agitato, fate un applauso, Patrick, serpente francese, guardalo qua, guardalo come squiscia, si può dire squiscia, non so cosa voglio dire, bene, lo ipnotizzo, Patrick, Patrick, guardami negli occhi, ecco, ha dato una testata, si è addormentato, bene, fa schifo, bene, butta dentro anche il serpente, un gioco bello, eccolo qua, metti dentro il serpente, metto dentro i cartoncini così, anche all'interno bene i cartoncini dentro, bambini, ci siete? Dovete iniziare a suonare flauto e vi aiuto io, tu vai con il concerto per clarinetto, orchestra K622, la maggiore di Mozart, vai, tu invece fai un'operetta di Vivaldi, quella che ti pare, quella che ti pare, suoniamo, vai, e sta uscendo, fantastico, sì, funziona, no, aspetta, però c'è una carta sbagliata, Patrick, questa è un cartoncino verde, ma che fai? Il cartoncino di che colore era? Giallo, ritorna subito dentro e non mi far fare questa figuraccia davanti a tutti questi bimbi, vuoi o non vuoi essere un master of magic anche tu? Bene, bambini, pronto con il flauto, sempre sciolto con la testa, bravo, e sempre lui, perfetto, e lei invece è pettinata, che c'è? Shakira, pettinata. Patrick, tu devi ritrovare il cartoncino, no, che fai? Non fare questo casino qua, ma guarda che roba incredibile, lancia tutti i cartoncini in aria, vai bambini, suoniamo, intonati, vai, cambia nota ogni tanto che sarebbe anche carino, e finalmente sta uscendo Patrick, non ci voglio credere, forse ha preso il cartoncino giusto, vediamo se si tratta realmente del cartoncino giallo, sì, wow, Patrick ha trovato il cartoncino giusto, e allora facciamo sentire un applauso gigante per i protagonisti di oggi, eccoli qua, guarda che carina anche lei, sempre sciolto con la testa, sempre pettinata, Shakira, a posto, vai, eccoci qua. Gabriele, Gabriele Gentile, un altro applauso, c'è la più forte per noi! Grazie di essere stato qui con noi oggi, il serpentello Patrick se lo porta via, perché io non lo voglio, non lo mettiamo dentro così, grazie, grazie, un altro applauso! Soprattutto... Soprattutto...